giornata di vibrante entusiasmo a Littoria per la visita del Duce che inaugura una nuova importantissima opera venuta ad arricchire il primo comune dell'agro ormai redento il grande zuccherificio sorto in soli dieci mesi nei pressi della stazione di Littoria cui è collegato mediante un ampio raccordo ferroviario enormi cumuli di vietole raccolte nei campi vengono accentrate nei vastissimi silos donde per mezzo di una corrente d'acqua vengono convogliati nello stabilimento dove funziona un complesso e perfettissimo macchinario totalmente costruito in Italia per la produzione dello zucchero la fabbrica vietole al giorno ricavandone dai mille ai mille cento quintali di zucchero in attesa che si estenda la vieticoltura dell'agro pontino e la produzione sia adeguatamente aumentata mezzo Grazie a tutti. Grazie a tutti.